Cari ragazzi, la trentesima giornata di Serie A si apre con un pareggio tra Bologna e Roma. Finisce 1-1 la gara e le reti sono di Pulgar e Edin Zeko. La Corsa Champions si fa sempre più entusiasmante. La Roma adesso ha 60 punti, ben 5 più dell'Inter che è a quarto posto, però l'Inter ha due gare da recuperare. Quella delle 15 contro il Verona e poi infrasettimanale contro il Milan. La gara è un pareggio secondo me giusto, giusto per gli sforzi, per il cuore, tutto quello che vuoi, quello che ha messo in campo il Bologna. E poi per una Roma che secondo me è zecco dipendente. Perché dico questo? Molte volte, facendo sempre un paragone alla mia Inter, si dice che l'Inter dipenda dai cardi, quello che vuoi. La Roma è molto più zecco dipendente di quanto possa essere l'Inter riccardi dipendente. Perché zecco lì davanti fa davvero tutto, fa davvero tutto. Infatti ha penetrato nel secondo tempo. Di Francesco voleva rinunciarci ovviamente per la prossima gara dove andrà ad affrontare il Barcellona. Voleva tenerselo bello fresco ma non ha potuto e forse andava messo anche prima, se non dal primo minuto. Però con i secconi, ma lasciamo stare. Un altro giocatore che ha entusiasmato è Kolarov. I palloni più, come posso dire, più importanti, più determinanti, arrivano dai suoi piedi. Infatti se non era assilato sei assist con la Roma, da palla da fermo sono venute le migliori occasioni e non è un caso che sia stato lui a battere. Poi una Roma sì sfortunata, però non lo so, sfortunata sì, ma anche colpevole della propria sfortuna. Perché con, per esempio, Strootman nel primo tempo ha praticamente a porta vuota mancato il gol dell'1-1 che poi invece è arrivato nel secondo tempo, al trentesimo se non erro. Comunque, detto ciò, è un 1-1 che ci sta. Il Bologna poi non è facile affrontare queste squadre. Non è assolutamente facile affrontare una squadra che per 90 minuti si difendono con 11, 11esimi dietro. Praticamente tutti, ma veramente tutti, dietro a difendere il primo palazio. E fatemi spendere anche una parolina per questo giocatore che sì, sarà meno lucido, meno preciso. Ovviamente ha la sua età, ma che comunque è un professore del calcio. Perché con i suoi movimenti, i suoi tempi di gioco, lui sa attendere, sa quando passare la palla, sa quando verticalizzare, quando fare il movimento appunto a cercare la profondità, quando accorciare. Cioè è un professore, è un professore. Ripeto, meno lucido, assolutamente, ma sempre un professore. E poi ultimissima parola, ultimissima parola diciamo così, la spendo per il portiere del Bologna, è stata la sua prima partita in Serie A, Santurro, croce dell'izia della partita perché ha fatto degli interventi bellissimi e altrettante uscite veramente goffe. È stato simpatico vederlo in azione, tutto qua. Va bene, non mi dilungo, fra poco inizia la partita dell'Inter e siamo lì a sperare che ce la facciamo col Verona. Visto che prima do un pronostico così, lo do tanto per, io con i pronostici non ci azzecco mai, comunque 2-0 per l'Inter contro il Verona, speriamo. Un abbraccio da Neschio, ci vediamo dopo per il post di Inter-Verona.